Sì. Associazioni, terzo settore, onlus, scuole, gruppi sportivi, volontariato vogliono farsi conoscere meglio. In altre parole questa iniziativa vuole andare a scovare tutto quel mondo di persone, di associazioni che operano nel silenzio, non hanno la ribalta dei grandi media. Ecco, noi ci rivolgiamo a loro perché possano raccontarsi, possono dire quello che fanno, è il loro impegno e questo credo è una parte importante del nostro essere insieme a queste associazioni. Una grande opportunità che il servizio pubblico radio televisivo e l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni mettono a disposizione di quanti chiedono di raccontare quello che fanno e come lo fanno. Partecipare è molto semplice. Sul sito del Corecom è online il bando con tutte le modalità per fare domanda e accedere a questa nuova occasione. Associazione vittime del dovere. La Presidente Emanuela Piantadosi e il Vice Presidente Sergio Pompogno. Ogni giorno oltre 400.000 uomini sono impegnati a tutelare la nostra sicurezza e la nostra libertà di cittadini. Le forze dell'ordine e le forze armate sono uomini e donne che hanno giurato fedeltà alle istituzioni e che si preoccupano degli altri anche a costo della propria vita. Quando uno di questi angeli cade, chi si preoccupa della loro memoria? Chi si occupa delle mogli, dei figli, dei familiari, dei caduti? L'Associazione vittime del dovere è nata anche per questo. La Presidente Emanuela Piantadosi. L'Associazione vittime del dovere è un'associazione di volontariato e unisce i familiari degli appartenenti alle forze dell'ordine e forze armate caduti durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L'Associazione vittime del dovere è un'associazione che si pone l'obiettivo di onorare la memoria dei caduti, tutelare i diritti delle famiglie e promuovere quella che è la cultura della legalità. Uomini e donne, come mio padre, io sono un'orfana di un maresciallo dei Carabinieri, mio padre Stefano Piantadosi, il 15 giugno 1980, durante un servizio di ordine pubblico, ferma un individuo sospetto di cui vuole accertare le generalità. Purtroppo questa persona è un evaso e mentre lo sta accompagnando in caserma per assicurarlo alla giustizia viene ucciso senza pietà. Mia madre aveva 38 anni, io 14, mio fratello 5. La nostra vita non è stata più come quella di prima. La nostra associazione riunisce famiglie come la mia affinché sia possibile ricordare i nostri caduti, ma soprattutto l'obiettivo che le nostre famiglie si sono poste è quello di sostenere e fornire assistenza a quanti come noi hanno dovuto subire lo stesso trauma. Di fatto le nostre famiglie hanno la necessità di sostegni psicologici, di assistenza legale e per quanto riguarda i feriti anche di assistenza medica. La nostra associazione si impegna affinché le vittime del dovere, che secondo noi sono patrimonio della nostra nazione, siano ricordate in una festa che le possa celebrare, in una festa nazionale, il 2 di giugno, festa della Repubblica. L'obiettivo della nostra associazione è promuovere anche la cultura della legalità e per questo insieme al Vice Presidente Sergio Pomponio entriamo nelle scuole e nelle università portando la nostra testimonianza. Perché si è destata la coscienza valoriale degli italiani e perché le future generazioni possono avere una diversa prospettiva, abbiamo qui un altro figlio delle vittime del dovere, il Vice Presidente Sergio Pomponio. È ottobre 1975, mancano quattro giorni alla pensione a mio padre, Vicebrigadiere della Polizia di Stato in riposo. Lo chiamano in ausilio alla Cassa Centrale di Napoli e lui non si fece pregare. Restò di guardia a 25 milioni di lire, parte degli stipendi dei ferrovieri. È una banda di criminali, tentato il colpo, mio padre reagisce. Gli sparano due colpi alle spalle e muore due giorni dopo. Racconto spesso la storia di mio padre, nelle scuole, perché la nostra associazione ha scelto che la memoria delle vittime del dovere si trasformi in diffusione della cultura e della legalità tra i giovani. Vogliamo che i giovani ascoltino, rispettino e comprendano coloro che tutti i giorni si preoccupano di utelare la loro libertà e sicurezza, partendo dalle esperienze drammatiche che ognuno di noi ha vissuto. È importante per noi lavorare sulle esperienze acquisite, a seguito di tragetti personali e tramandare alle future generazioni il senso del sacrificio estremo come drammatica e fatale conseguenza dell'abnegazione al giuramento di fedeltà allo Stato e agli altri. Visitate il nostro sito www.associazionevittimedeldovere.it Grazie Grazie Il Comitato a collaborazione medica, CCM, è un'organizzazione non governativa nata nel 1968 da un gruppo di medici che ritenevano che il diritto alla salute dovesse essere un diritto universale, cioè il diritto all'accesso a servizi sanitari doveva essere per tutti in tutto il mondo. Lavoriamo in Africa, nell'Africa subsahariana, in particolare in Sud Sudan, in Etiopia, in Burundi, in Kenya, in Somalia, in Uganda e abbiamo scelto di lavorare nelle zone rurali dove i servizi sanitari sono meno presenti. Per noi è estremamente importante lavorare con le comunità, perché abbiamo visto che solo con la partecipazione delle comunità residenti sul posto possiamo avere una efficacia nel nostro intervento. Da alcuni anni lavoriamo anche in Italia, sempre rivolgendosi alle fasce più deboli e fragili della popolazione, come i migranti o le persone che sono arrivate in povertà in questi ultimi anni, soprattutto per informare queste persone di quali sono i servizi sanitari disponibili e possibili e fruibili da loro stessi. In Italia vi parlerà meglio la dottoressa Montanari. Proprio per legare le due anime del CCM, quella che opera nell'Africa subsahariana e quella che invece opera in Italia, CCM ha lanciato una campagna, la campagna Sorrisi di Madre Africane, che si pone alcuni obiettivi da raggiungere entro il 2020, forse ambiziosi, però dal nostro punto di vista realistici, se tutti ci impegniamo. Vogliamo, entro appunto il 2020, formare 2.700 operatori sanitari di ogni livello, dottori, infermieri, medici, operatori di comunità. Vogliamo riuscire ad aiutare 170.000 donne durante la gravidanza, durante il parto e durante il puerperio e a vaccinare e curare 780.000 bambini. L'importanza della prevenzione, della vaccinazione è fondamentale per garantire il diritto alla salute. E proprio appunto per creare un ponte, un legame con le attività sul territorio piemontese, abbiamo avviato delle collaborazioni con le ASL di Torino e speriamo nei prossimi anni di aumentare le collaborazioni, estendendole anche alle altre province del Piemonte, per organizzare delle attività di formazione ed educazione che coinvolgano non solo gli operatori sanitari piemontesi, ma anche le future mamme, i futuri papà, coloro che si avviano a diventare genitori, proprio per creare un gemellaggio tra i punti nascita in Piemonte e quelli nei paesi africani in cui lavoriamo. E questo perché il diritto a diventare genitori, a dare alla luce un bambino in condizioni di sicurezza e del bambino a nascere, ad essere curato fin dai primi istanti di vita, sia un diritto universale. Il Comitato di Collaborazione Medica ha scelto l'Africa sub-sahariana per i suoi interventi perché è nell'Africa sub-sahariana che troviamo un'alta mortalità dei bambini e delle donne, sono 200.000 le donne che muoiono ogni anno nell'Africa sub-sahariana e ogni secondo muoiono 7 bambini nell'Africa sub-sahariana. Tutte le cause di queste morti sono dovute a malaria, diarrea, polmoniti, che sono malattie facilmente curabili. Soltanto che il personale sanitario presente in questi posti e che visita la maggior parte dei bambini e delle mamme è un personale che non è qualificato, il 50% di questo personale non è qualificato, per cui il CCM punta ormai da diversi anni alla formazione di questo personale perché soltanto dando gli strumenti per fare delle diagnosi e fare delle terapie adeguate possiamo ridurre la mortalità di queste persone. Per tenere accesi i riflettori sulla salute di mamme e bambini, la campagna Sorrisi di Madre Africana promuove la petizione La tua firma per la salute di mamme e bambini. Se andate sul nostro sito www.ccmitalia.org potete sottoscrivere questa petizione ed aiutarci a formare personale a curare mamme e bambini sia nei paesi che in Italia. Buongiorno a tutti, l'associazione Difendiamo il Futuro è un'associazione di promozione culturale che nasce nel 2001 a Torino. L'intenzione dei promotori è quella di realizzare dibattiti, incontri, seminari e convegni soprattutto rivolti ai giovani e soprattutto rivolti ad offrire uno sguardo ai maggiori temi di attualità. Le iniziative dei primi anni dell'associazione spaziano dai temi legati al lavoro, all'attualità internazionale e anche a temi legati alla politica. Nel 2008, con il coinvolgimento di alcuni docenti universitari, torinesi e non solo, alcuni professionisti, imprenditori, nasce l'idea di formare, per dare una continuità alle iniziative già svolte, una vera e propria scuola di formazione. Scuola di formazione che si rivolge a giovani e non soltanto giovani intenzionati ad affrontare in modo critico l'attualità e la realtà della partecipazione politica. Nasce così nel 2008 la Winter School, l'arte della politica. Questa dizione Winter School, l'arte della politica, ha accompagnato questi otto anni di iniziativa dell'associazione Difendiamo il Futuro. Perché arte della politica? Uno dei fondatori della scuola, il professor Vincenzino Caramelli, prematuramente scomparso, ha coniato questo slogan, curare la dimensione politica che caratterizza ogni uomo. Politica nel senso di amore, passione, desiderio di costruire la polis, secondo una intenzione del bene comune. Così la scuola si è sviluppata secondo un'ottica di dialogo residenziale e ha coinvolto in questi anni circa mille partecipanti, decine di relatori provenienti dall'Italia e dall'estero e personalità del mondo imprenditoriale, culturale, politico, sociale. La scuola si svolge nel circondario di Torino, ha avuto diverse sedi e si svolge nei mesi invernali, da cui l'espressione Winter School, diciamo in contrapposizione ma soprattutto in dialogo con le molte Summer School presenti in Italia e non soltanto. La scuola si rivolge soprattutto ad argomenti di carattere economico, argomenti di carattere giuridico, argomenti di carattere filosofico o di comunicazione e argomenti di carattere storico. All'inizio la scuola si rivolgeva soprattutto a studenti e partecipanti provenienti dall'area piemontese, ma nel corso degli anni possiamo dire che la scuola ha visto partecipanti di tutte le regioni italiane e anche alcuni partecipanti provenienti dall'estero. La filosofia di Winter School è quindi quella di aiutare ad offrire informazioni fondamentali su quanto sta succedendo nel mondo, sulle radici dei problemi del nostro tempo, così che ciascuno nel dialogo con i relatori e con i promotori possa sviluppare un vero senso critico. Nel corso degli anni l'esperienza di Winter School si è arricchita di un comitato scientifico, di una rivista scientifica online e anche di alcune pubblicazioni scientifiche. Le ultime Winter School sono state caratterizzate dalla scelta di temi precisi per focalizzare l'interesse su alcuni dei punti più importanti del nostro dibattito attuale. Si è partiti da un'attenzione al tema del rapporto fra Stato e società con l'importanza dei corpi intermedi, il tema della giustizia lo scorso anno e quest'anno il tema della natura, natura intesa sia come ambiente, sia come natura umana, sia come natura dell'ordine politico. La terza sessione della Winter School, le prime due si sono svolte già nel mese di ottobre e di gennaio, si svolgerà alla fine di febbraio del 2016 a Torino, la serata introduttiva verso il campus Luigi Einaudi e a Rivarolo Canavese la sessione vera e propria residenziale. L'Associazione di impegnarsi serve nasce nel 1997 a seguito di un appello venuto dalla Colombia, un appello dei campesinos, dei colonos, dei missionari della Consolata che si sono visti travolti dall'affare coca. La lettera di un bambino ci dice Caro amico d'Europa, questo è il primo anello di una lunga catena che si vorrebbe spezzare. Io produco la coca e tu la consumi, io la vendo e tu la compri. Tutte e due affermiamo che se non esistesse l'altro il problema sarebbe risolto. E allora chi deve fare il primo passo? Intanto io affronto la vita con tutta la mia famiglia cercando un'alternativa a questa povertà assoluta. Pablito. Così parte la campagna non di sola coca quando impegnarsi serve, una campagna che si realizza nelle grandi città d'Italia sia attraverso manifestazioni, progetti, grandi mostre eccetera. L'Associazione poi ha continuato il suo cammino soprattutto basandosi su alcuni valori portanti quando impegnarsi serve e lì viene l'impegno e il servizio e la solidarietà come strumento di crescita di altri popoli. Susseguentemente la campagna si è trasformata in altre campagne a sostegno degli indios in Brasile, a sostegno dei poveri dell'Africa, in particolare gli ammalati di AIDS per i quali abbiamo fatto una serie di profonde e grosse iniziative. Tra i vari progetti che preferisco invece vi è il progetto oratorio. Da diversi anni ormai impegnarsi serve e lo porta in Africa e in Sud America. Non solo dà modo ai bambini di divertirsi e imparare giocando ma dà anche loro un buon pasto. Offre ai ragazzi e gli adolescenti l'occasione di lavorare con i loro fratelli più piccoli e di imparare un metodo che possono utilizzare poi più avanti nel tempo anche senza il nostro aiuto e di relazionarsi con degli animatori italiani che appunto partono per questa missione e con cui intrattengono poi relazioni per diversi anni. Agli italiani invece dà l'occasione di non solo scoprire un paese nuovo, studiarlo, ma di fare raccolte fondi insieme appunto a raccoglire materiali prima di partire, a incontrare un paese nuovo una volta là e a riportare non solo tantissime emozioni ma anche tante informazioni per sensibilizzare i loro coetanei. A seguire in particolare negli ultimi anni abbiamo sviluppato il progetto Samburu Community Farm in Kenya tra il popolo Samburu e abbiamo promosso una serie di iniziative su Torino, su Milano eccetera eccetera sotto il nome Sikia. Sikia vuol dire ascolta. Volevamo metterci in ascolto di un popolo, di ricchezze che questo popolo ha dentro di sé e abbiamo sostenuto progetto significativo anche dal punto di vista economico proprio perché laggiù ci fosse un passaggio da una pastorizia tradizionale ad una pastorizia di carattere un po' più attuale e simile alla nostra. Io mi chiamo Andrea, la scorsa estate ho avuto la fortuna di compiere un meraviglioso viaggio eravamo in due, io e un mio amico agronomo che si chiama Matteo Quarezza siamo andati in Colombia, quindi siamo partiti per la Colombia i primi giorni di agosto abbiamo raggiunto il remolino del Caguang nella zona del Cachetà che si trova nel profondo della foresta amazzonica dove abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano quello che il narcotraffico crea in quella zona quindi tutto un sistema di violenza e di inquinamento che fa sì che ci sia un atteggiamento dal punto di vista della popolazione estremamente ostile la cosa più importante secondo noi da attuare in questi luoghi è un profondo cambiamento culturale e morale per poter far sì che si creino delle alternative e delle alternative alla coltivazione della coca. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti